Cari colleghi, cari colleghi, cari amici, questo messaggio è per porgere a voi e alle vostre famiglie gli auguri di buon Natale, di buon anno, di buone feste, da parte del Consiglio dell'Ordine dei Medici, Chirurghi e dell'Otriati della provincia di Venezia. Sono nuovi metodi di comunicazione che vogliono raggiungere voi e le vostre famiglie in questo momento di festa e di raccoglimento per tutti. Naturalmente il nostro pensiero va a quelli che sono di turno in questo periodo, che lavoreranno nei pronti soccorsi, nelle guardie mediche, ai medici reperibili, a chi è di guardia in ospedale. Loro continueranno a lavorare per garantire la vostra sicurezza, come la Polizia, i carabinieri, come tutti quanti i turnisti per cui esiste il turno di Natale, il turno di Capodanno, ma il lavoro c'è sempre. Allora il nostro ringraziamento e il pensiero per voi, che nel caso aveste bisogno di perurgenze, non preoccupatevi che l'ospedale e altri professionisti della salute sono sempre a vostro servizio anche in questo periodo di festività. Buon Natale a tutti. Buon Natale a tutti.